Salve, adesso vi presenterò il mio progetto. Esso è un indicatore di temperatura ed umidità. Per questo progetto mi sono avvalso di diversi componenti. Un Arduino, un display, dei cavi, un potenziometro per regolare la luminosità delle scritte ed un sensore di temperatura ed umidità, precisamente un DHT11. Ho utilizzato tre diverse programmazioni. La prima una semplice programmazione in Arduino. Poi ho svolto una programmazione ad oggetti basandomi sulla programmazione in Arduino. E infine ho svolto una programmazione in Processing. Adesso vi farò vedere una semplice presentazione in PowerPoint dove racchiude tutto quello che ho fatto per questa esperienza. Questo è un indicatore di temperatura ed umidità che si trova in commercio. Questi sono gli oggetti utilizzati per questa esperienza. Questa è la programmazione in Arduino. Una programmazione ad oggetti con Processing. Questo è un circuito elettrico del mio progetto svolto con un multisim. Queste sono due immagini del mio progetto. Grazie per l'attenzione, questo è il mio progetto.